mister si torna al Nicoletti dopo tanto tempo però il risultato non cambia per fortuna ma nulla viene per fortuna c'è tanto lavoro dietro sì lo sapevamo non era una partita semplice l'abbiamo preparata sapendo che andavamo a affrontare un avversario molto ostico e veramente vanno fatti complimenti a San Pietro in vincoli una delle forse una delle poche squadre che ho visto giocare a calcio a casa nostra quindi complimenti davvero poi si è riusciti a sbloccarla insomma ovviamente loro si sono aperti un po di più rispetto a quello che stavano facendo e poi diciamo tra virgolette è diventato tutto leggermente più semplice ma sapevamo e i fatti l'hanno confermato la partita era di quelle toste difficili davanti hai tante soluzioni oggi è rientrato Tamagnini che ha procurato il rigore Sartori ancora decisivo con un altro rigore conquistato insomma c'è da ben sperare sì sì sicuramente le opzioni non mancano in nessun ruolo perché siamo ben coperti ovunque abbiamo qualità in tutti i ruoli anche giovani molto interessanti quindi sono molto contento anche oggi insomma 2003 ha giocato quasi tutta la partita Guidotti De Luca anche lui ha esordito un 2004 quindi insomma il processo di crescita di questi ragazzi procede sono contento di dargli minutaggio e speriamo di poterlo fare anche in futuro Adesso ci riposiamo poi si torna in campo sabato 26 febbraio contro la Savignanese Sì queste soste ti dico la verità cominciano un pochino a pesare perché insomma a noi piace giocare del resto lavoriamo e ci alleniamo per questo poi arrivare alla domenica e andare a fa la passeggiata lungo mare non è piacevole quindi non ci piacciono queste soste però il campionato dice questo quindi domenica niente andremo a vedere gli avversari c'è un savignanese russi che per noi è interessante da insomma andremo sugli sparti di Savignano a vedere questa partita è un po' che ci provava Lorenzo Inchisi a buttarla dentro è finalmente arrivato questo gol dopo tanti inserimenti insomma bel momento sì molto 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 bene poi è andata bene che c'era anche i miei ragazzi del settore giovanile infatti perché hai esultato raccontami come cosa come hai esultato eh niente c'erano i miei ragazzi del settore giovanile è stato bello dai abbracciarli e li hai presi in braccio io presi no dai loro sono vengono sempre a vederci quindi dai volevo farlo anche per loro ce l'ho fatta bene e questo è insomma la testimonianza di quello che si sta creando qui a Riccione che partita è stata Lollo è tosta al primo tempo loro sono stati bravi loro sono venuti a prendere bene si muovevano bene noi non li siamo andati a prendere come volevamo e ci hanno messo un po' in difficoltà però le nostre occasioni le abbiamo avute io soprattutto non sbagliata una poi poi rigore ci ha un po' facilitato diciamo le cose secondo tempo invece molto bene ed abbiamo fatto una grande un'altra bella vittoria comunque la costante sempre l'approccio giusto al match con la giusta concentrazione condizione fisica insomma è difficile vedere la squadra sbagliare la partita sì oggi sull'approccio forse abbiamo sbagliato un qualcosina non siamo entrati come le altre volte in casa però noi non abbiamo non come le altre volte ma non abbiamo fatto neanche così male potevamo fare meglio però dai nel lungo siamo andati bene siamo andati bene abbiamo trovato i gol e comunque abbiamo vinto 3 a 0 e quindi è stata una bella partita esordio in prima squadra per De Luca prodotto del settore giovanile della Fiariccione innanzitutto un po' emozionato l'ingresso in campo sì sicuramente l'emozione c'è stata soprattutto davanti al pubblico di casa e ringrazio il mister che mi ha dato questa opportunità e anche i miei compagni perché ogni giorno mi supportano e ci supportiamo sempre di più l'uno con l'altro ecco sei entrato in campo pronti via subito un giallo sì sì diciamo dai che mi sono fatto sentire sin dall'inizio ecco senti naturalmente ti auguriamo di fare tanti minuti da qua fino alla fine della stagione come è stato il tuo ingresso in prima squadra sono già diverse settimane che ti alleni con Taccolo sì è stato bello a primo impatto ero molto emozionato poi dopo col passare del tempo un po' mi sono diciamo ambientato e adesso si cerca sempre di dare il meglio sia per il mio bisogno personale sia per quello della squadra naturalmente non dimenticando la juniors di cecchini i tuoi vecchi compagni certo certo sempre con loro e in caso c'è bisogno della chiamata io sono sempre a disposizione